distribuiti in modo... ma devi spiegare anche che i sacrifici vanno distribuiti, vanno spalmati come si deve non possono essere sacrifici così c'è gente che non può sacrificarsi, viva Dio o diciamo non può sacrificarsi oltre ancora di più ma che roba è? semplicemente bisogna spiegare quello che si fa e questo non si fa con le battute bisogna fare una politica fiscale bisogna che spiegino una politica fiscale perché poi tra l'altro anche questi miliardi ogni giorno viene fuori che dobbiamo tirare fuori miliardi in più sono tutti debiti e allora non possiamo mica continuare con la pressi ormai secolare di rovesciare montagne di debiti su figli e nipoti è una vergogna, viva Dio che mi spieghino quale politica fiscale intendono fare se intendono fare una patrimoniale di che tipo dicano le cose come lei sa, professor Cacciari Draghi ha escluso che ci possono essere nuove tasche dice che non mette le tasche in mano agli italiani ma che discorso è? se aumentano le tariffe continue non è mettere le tasche in mano agli italiani ma che discorso è? ma cosa dicono? le mani in tasca agli italiani allora si aprirebbe un lungo dibattito che sicuramente avremo modo di fare